Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale. Apriamo parlando di politica perché il capogruppo di Unione per il Molise, Vittorino Facciolla, attuale assessore e vicepresidente della giunta regionale, è ancora sotto i riflettori per la vicenda dei fitti relativi ad alcuni appartamenti pagati con soldi pubblici. Spunta anche un immobile di proprietà della segretaria particolare del governatore Frattura, ubicato in via Firenze numero 2 a Campobasso, che risulta essere anche la residenza della collaboratrice del presidente della regione. E allora sentiamo tutto in questo servizio di apertura di Giovanni Minicozzi. Una mini holding immobiliare con la funzione di fittare appartamenti con soldi pubblici da utilizzare sia per uso abitativo privato sia per uso ufficio. Nel piccolo condominio del Molise accade anche questo, ma nessuno vede e nessuno parla. Il gestore delle fantasiose operazioni immobiliari è il presidente e unico rappresentante del gruppo consigliare regionale, denominato Unione per il Molise, Vittorino Facciolla, il quale ricopre anche il prestigioso incarico di assessore e vicepresidente della giunta regionale. Ma veniamo ai fatti, tutti documentati con atti ufficiali. Come già noto, il capogruppo Vittorino Facciolla ha locato un appartamento ubicato in via Garibaldi in Campobasso, a pochi metri dalla sede del suo assessorato, destinato esclusivamente ad uso abitativo per necessità private. Per l'anno 2016, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con delibera numero 118 del 12 aprile scorso, ha impugnato il costo del contratto di locazione pagato con i soldi assegnati a gruppo Unione per il Molise, in quanto la spesa non è stata ammessa a rendicontazione perché non risponde alle finalità istituzionali previste dal Decreto Monti, in vigore dal lontano dicembre 2012. Nel frattempo, Vittorino Facciolla ha fatto sapere di aver restituito i 6.902 euro relativi all'anno 2016, ma ovviamente ciò non cancella il fattaccio. Intanto però abbiamo scoperto, carte alla mano, che tale abuso è stato consumato anche per gli anni 2014 e 2015, ma la Corte dei Conti non ha impugnato le relative rendicontazioni. Le alchimie di Facciolla però non finiscono qui. Il gruppo Unione per il Molise, che dispone dell'uso gratuito di una sede a Palazzo Daimmo, ha locato un ufficio di rappresentanza anche nel comune di San Martino in Pensilis, dal 4 marzo 2015, al costo anno di 5.500 euro. In precedenza è stato lo stesso Facciolla ad ospitare l'ufficio all'interno del fabbricato acquistato dieci anni dopo il sisma del 2002, immobile poi ristrutturato con i fondi pubblici e divenuto oggetto di indagine da parte della magistratura. Ma non è tutto, in quanto risulta essere davvero stupefacente l'operato del capogruppo Facciolla in un'altra operazione immobiliare. Il 13 maggio 2013, infatti, perfezionò un contratto di locazione valido per un anno relativo a un appartamento destinato al suo gruppo monocellulare ubicato al secondo piano di via Firenze 2 a Campobasso, anche questo pagato con i soldi del gruppo consigliare. Secondo quanto descritto nell'atto di locazione, si tratta di un immobile per uso abitazione arredato con due camere da letto, cucina, bagno e ripostiglio, al costo di 5.400 euro annui, più spese di gestione e di registro. Eclatante poi la circostanza che la locatrice proprietaria dell'immobile sia la signora Tiziana Pietrangelo, responsabile della segreteria particolare del presidente Paolo Frattura. Peraltro, dagli atti ufficiali del comune di Campobasso, risulta che la signora Tiziana Pietrangelo è residente da circa dieci anni proprio nell'appartamento di via Firenze 2. Al di là delle eventuali implicazioni amministrative e penali, peculato o altro, il cui accertamento compete alle istituzioni preposte, ma non appassionano telemolise, appare del tutto evidente la responsabilità etica e morale di alcuni politici nostrani dediti allo sperpero di risorse pubbliche, proprio mentre i molisani sono precipitati nel baratro di una crisi economica e produttiva senza fine. Voltiamo pagina, parliamo di sanità perché c'è lo stop anche alle terapie oncologiche al vietri di Larino. I pazienti dovranno andare a Termoli per curarsi, mentre nel presidio frentano, ridotto a ospedale di comunità, resterà solo un ambulatorio per gli screening tumorali. Ce ne parla Fabrizio Chionero. Le ultime cose sono state caricate sui camion e trasferite al Santimoteo di Termoli. L'ospedale Vietri di Larino perde così ancora un altro pezzo, quello delle terapie oncologiche, conseguenza della riconversione del presidio frentano in ospedale di comunità, stabilita nel riordino sanitario, che non prevede personale destinato a questa tipologia di servizio. Chi combatte contro un tumore dovrà ora raggiungere l'ospedale di Termoli per ricevere le chemioterapie o altre prestazioni e non potrà più farlo a Larino. Per motivi di sicurezza tutto si svolgerà al Santimoteo, anche per il tipo e la delicatezza del trattamento, che richiede personale, reparti e attrezzature non più disponibili al vietri, per effetto delle modifiche al piano. A Larino resterà solo un ambulatorio destinato agli screening oncologici, una struttura in sostanza svuotata sempre di più dei reparti e ridotta a ospedale di comunità rispetto a un territorio che conta migliaia di abitanti e a ciò che negli anni è offerto ai cittadini dell'intero comprensorio e non solo. I disagi per i pazienti, che dovranno raggiungere Termoli e non erano ancora a conoscenza della novità, non mancano così come si rinnovano le proteste del Comitato Provietri, che intanto aspetta la decisione dei giudici amministrativi per la sentenza di merito che riguarda proprio la difesa dell'ospedale. E torniamo a parlare dell'incidente nel corso del quale ha perso la vita ieri un camionista di Sepino. Al di là delle circostanze tecniche, lascia sgomenti la concomitanza di una tragedia avvenuta 16 anni prima, nella quale morì il figlio del 58enne rimasto schiacciato dal tir. Questa storia incredibile ce la racconta Giovanni Di Tota. Un destino tremendo, una trama scritta sull'asfalto della Statale 87, quella che ha legato per sempre Pasquale Arienzale a suo figlio. Il camionista, che è rimasto schiacciato sotto la cabina del suo tir, aveva perso il figlio Giuseppe in un incidente di moto. A poche centinaia di metri da Sepino, al bivio che collega il paese alla Statale, tra pochi giorni ricorre il sedicesimo anniversario della tragedia. Su uno scooter, che un amico pare gli aveva prestato per un giro, pochi chilometri sulla Statale 87, poi le curve per tornare in paese e un furgone che percorreva la stessa strada. Lo scontro fatale al ragazzo, che non aveva ancora compiuto 18 anni, era il 20 maggio del 2001. A distanza di 16 anni, ancora un gravissimo incidente ha colpito la famiglia Arienzale e strappato alla vita Pasquale, 58 anni, camionista della ditta Tamburro Calcestruzzi di San Giuliano del Sannio. Il magistrato, per chiarire se l'uomo abbia avuto un malore prima che il camion si ribaltasse, sarebbe intenzionato a disporre l'autopsia. Le indagini condotte dalla Polizia Stradale di Campobasso dovranno rivelare cosa ha causato il ribaltamento del camion che trasportava un escavatore, se il carico era posizionato nel modo giusto oppure se sia stato l'asfalto bagnato la causa dell'incidente. Ma intanto a Sepino, tutto il paese è rimasto attonito dalla notizia della morte di Pasquale, subito collegata con l'altro drammatico incidente. Un lavoratore è una persona stimata da tutti, lo ha ricordato il sindaco Paolo Danello. Arienzale era sposato e lascia la moglie una figlia che da poco lo aveva reso nonno. E intanto, dopo la relazione della Polizia Stradale, il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo di Pasquale Arienzale. A Campobasso domani tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale. Tra gli argomenti in agenda anche la gestione del servizio idrico legato all'istituzione del Legam. Pronta una mozione che sollecita una gestione pubblica dell'acqua, ce ne parla Anna Maria Di Matteo. Tornerà a riunirsi domani dopo una pausa durata oltre un mese il Consiglio Comunale di Campobasso. E l'ordine del giorno è particolarmente ricco di argomenti che interessano molto da vicino i cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una serie di mozioni e interpellanze che affrontano questioni di strettissima attualità. Tra le interpellanze c'è quella firma del consigliere Roberto Gravina che si occupa del problema amianto su quale occorre fare chiarezza anche alla luce dell'incendio di Pomezia. Gravina chiede di conoscere la situazione sull'intero territorio comunale degli edifici che contengono il minerale le cui fibre sono particolarmente pericolose per la salute. Un problema sollevato in passato dal consigliere che aveva segnalato la presenza di diversi immobili con coperture in amianto e che ora chiede di sapere a che punto è la situazione e se esista uno screening generale. Ma in primo piano ci sarà anche ed ancora l'avviso pubblico per la ricerca di un immobile da acquistare per ospitare la SEA. I consiglieri 5 Stelle che già in passato erano intervenuti sulla vicenda denunciando gli elevati costi per l'intera operazione chiedono al sindaco la revoca dell'avviso. Tra le mozioni c'è poi quella che punta all'attenzione sulla gestione delle risorse idriche legata alla recente istituzione da parte della regione del Legame. I pentastellati tornano a sollecitare la necessità che il servizio idrico sia assegnato ad un gestore pubblico e in tal senso chiedono un atto di indirizzo ufficiale da parte del comune, in particolare al sindaco Battista che dovrebbe essere il presidente del Legame. L'acqua è un bene essenziale che deve essere accessibile a tutti, ricorda il consigliere Gravina. Dietro una gestione privatistica del servizio si nasconde inevitabilmente il lucro. Intanto quello che appare certo è l'aumento delle tariffe anche per i comuni virtuosi che hanno provveduto a spese proprie al rifacimento delle reti idriche riducendo così le perdite ma che nonostante tutto questo si vedranno imporre costi elevati. Insomma su questo argomento occorre vederci chiaro e soprattutto procedere con estrema cautela per evitare che l'acqua finisca nelle mani sbagliate. Via libera al Senato al disegno di legge sul lavoro autonomo che garantisce le prime forme di tutela sociale a quanti svolgono un lavoro senza vincolo di subordinazione. Il provvedimento prevede indennità di disoccupazione per i cocco-coli, indennità di maternità, il congedo parentale. Forme di tutela ha dichiarato il senatore Roberto Ruta fino ad oggi assenti per i lavoratori autonomi. è una linea di demarcazione fondamentale, ha aggiunto, stabilita dalla riforma del lavoro per smascherare abusi e false partite IVA e riconoscere più diritti ai tanti lavoratori autonomi, non imprenditori, soprattutto giovani. Così ha concluso il senatore Ruta. ITR, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha revocato dalla sua carica il commissario straordinario Andrea Ciccoli. In precedenza, a ottobre, si era dimesso Roberto Spada. Al momento quindi della triade commissariale è rimasto in carica solo Emanuele Rimini, un avvocato romano. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. E' ufficiale, al timone della vecchia IT Holding, la società commissariata nel 2009 con la legge Marzano, è rimasto il solo Emanuele Rimini, avvocato romano, chiamato a sostituire l'altro avvocato romano, Ghia, a sua volta primo sostituto del dimissionario Stanislao Chimenti. Destini diversi per gli altri due commissari originari, Roberto Spada e Andrea Ciccoli. Il primo si era già dimesso dal suo incarico nell'ottobre scorso, mentre il secondo è stato dichiarato decaduto al termine della procedura avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Infatti, con decreto del 7 aprile, sono state accettate le dimissioni di Roberto Spada ed è stato revocato l'incarico commissariale ad Andrea Ciccoli. Ciccoli aveva ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento a suo carico già il 14 ottobre scorso, per poter esporre di conseguenza le proprie deduzioni, così come previsto dalla legge. La nota faceva seguito inoltre alla proposta della Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività, chiamata a vigilare sulle procedure di amministrazione straordinaria, la quale, in una relazione, aveva sollevato delle contestazioni nei confronti dei commissari. Dure le motivazioni alla base del provvedimento del Ministero. Si parlava di oggettiva inidoneità dell'organo collegiale ad assicurare un'efficiente ed efficace gestione della procedura di amministrazione straordinaria e, per conseguenza, una cura adeguata degli interessi pubblici, cui la stessa è finalizzata, come emerge in particolare dalla confusa, disomogenea e non compiuta rappresentazione dei costi della procedura. Dall'assenza di ponderate e concrete iniziative per la rapida conclusione della gestione liquidatoria della procedura e, al contempo, dal compimento di atti in assenza della preventiva autorizzazione, ove prevista i sensi di legge. E, infine, dall'adozione di criteri di determinazione dei compensi e degli incarichi di assistenza e consulenza legale penalizzanti per la procedura e dal mancato controllo del corretto svolgimento degli incarichi stessi. 12 persone sono state denunciate dai carabinieri perché protagoniste di una maxi-rissa a riccia in un'attività commerciale. Dopo le indagini e le testimonianze raccolte, i militari hanno ricostruito l'accaduto e individuato tutti i responsabili. Hanno denunciato anche il gestore del locale per disturbo del riposo. Dall'Istat colpo di grazia ai piccoli comuni Giamoribondi è quanto ha dichiarato l'Anci Molise e l'Associazione dei Comuni riguardo le multe che l'Istituto sta inoltrando agli enti per aver omesso di fornire i dati richiesti in relazione alla rilevazione statistica sui permessi a costruire del 2013. Sentiamo Tonino Danese. Per la quasi totalità del territorio il Molise è costituito da piccoli borghi moltissimi con meno di mille abitanti. Questo in realtà è il grido d'allarme dell'Anci Molise e l'Associazione dei Comuni sono già moribonde e l'Istat dà il colpo di grazia. L'Anci regionale con il suo presidente Pompilio Sciulli ha evidenziato che in questi giorni l'Istituto Nazionale di Statistica sta mandando a diverse amministrazioni amministrazioni, multe salate per aver omesso di fornire i dati richiesti per la rilevazione statistica sui permessi a costruire del 2013. Tecnicamente l'Istat non ha ricevuto le informazioni per le mensilità nulle cioè quelle in cui non erano stati rilasciati i permessi. Per l'Anci Molise si tratta di un atteggiamento vessatorio dello Stato nei confronti dei piccoli comuni visti solo come costi inutili da tagliare. Pompilio Sciulli ha ricordato che negli ultimi cinque anni si è bloccato il turnover del personale e sono stati tagliati trasferimenti per 204 euro per abitante e allo stesso tempo emanati oltre 60 provvedimenti che trasferiscono ai piccoli comuni nuove funzioni, competenze e adempimenti per la gran parte inutili. Le sanzioni dell'Istat, ha proseguito Sciulli, diventano così uno sfregio all'impegno dei dipendenti dei piccoli comuni cosiddetti mini-enti. Alla luce delle richieste di diversi sindaci molisani il presidente regionale dell'Anci insieme ai suoi colleghi delle altre regioni ha scritto alla direzione generale dell'Istat per chiedere che faccia un passo indietro per evitare un inutile e contenzioso tra enti pubblici. Ulteriore richiesta è stata poi rivolta i prefetti di Campobasso e Isernia affinché intervengano per indurre l'Istituto di Statistica a fare un provvedimento che consenta di riaprire i termini nei confronti dei comuni che per cause di forza maggiore hanno tardato a fornire i dati richiesti sulla rilevazione statistica sui permessi a costruire del 2013. E ora ci spostiamo a Isernia dove è stata inaugurata la nuova sede operativa della UIL. Dove lo Stato arretra noi andiamo in controtendenza rafforzando la presenza sul territorio. Ha commentato il tesoriere nazionale del sindacato Benedetto Attili intervenuto alla cerimonia inaugurale. C'era per noi Sergio Di Vincenzo. In un periodo in cui lo Stato arretra tagliando i servizi nelle aree ritenute marginali la UIL va in controtendenza rafforzando la presenza sul territorio. Questo è il messaggio lanciato durante la cerimonia inaugurale della nuova sede di Isernia del sindacato. Un segnale chiaro per dire che è ora di dire basta al continuo scippo dei presidi statali e al ridimensionamento dei servizi in primis quelli sanitari. Al contrario bisogna lottare per tutelare i diritti dei cittadini molisani e creare nuova occupazione premessa necessaria per il rilancio di queste aree dimenticate da tutti. Concetti questi rimarcati con forza anche dal tesoriere nazionale della UIL Benedetto Attili. È da tempo che la UIL ha imboccato questo percorso è particolarmente attivo e significativo nel Molise grazie anche all'azione di Tecla Boccardo e della segreteria della UIL Molise. Noi crediamo fortemente nell'investire sul territorio in maniera tale da dare servizi ai cittadini ma soprattutto di potenziare quella che deve non ci dobbiamo scordare di quale è l'azione principale del sindacato la tutela dei diritti delle persone che ci danno fiducia lavoratori, pensionati e chi cerca di lavoro. Lei ha seguito anche la vicenda del riordino delle province. È stata fatta un'operazione in fretta e furia più di immagine e di ricerca di facile consenso senza preoccuparsi di quale sarebbe stata la rigatuta sulla vita quotidiana dei cittadini. Questo è un vulnus a cui il governo dovrebbe porre il rimedio immediatamente. Ad accogliere il tesoriere c'erano tanti iscritti e simpatizzanti. A dargli il benvenuto anche il presidente della provincia Lorenzo Coia e il sindaco Giacomo D'Apollonio. A fare gli onori di casa il segretario regionale della UIL Tecla Boccardo. Nel rivendicare la lotta del sindacato per l'area di crisi ha lanciato pesanti bordate sia la politica nazionale regionale rea di aver letteralmente abbandonato la provincia di Sernia sia quegli imprenditori che hanno solo saccheggiato il territorio. Siamo convinti che il dare più attenzione e maggiore attenzione ai territori porta sempre dei risultati importanti. Il nostro spirito è stato proprio quello che ci ha guidato anche quando abbiamo pensato, quando tutti andavano via da questo territorio, compresi gli imprenditori e quelli che sono stati i prenditori di risorse pubbliche in questo territorio, che hanno praticamente flagellato questo territorio. Quando tutti consideravano questa una provincia di periferia e lo Stato stesso che la considera una provincia da annullare, noi invece vogliamo rafforzare la nostra presenza, vogliamo gridare a voce forte che da questi territori ci sono tutte le opportunità per lo sviluppo. E non è con il taglio, con la chiusura degli uffici pubblici, dei servizi pubblici, non è con il taglio che si fa a cassa ma con una migliore riorganizzazione. Studenti universitari per un giorno a lezione in carcere è accaduto questa mattina nel penitenziario di Campobasso dove i ragazzi della Facoltà di Scienze Sociali dell'Università del Molise hanno partecipato a un incontro per conoscere gli aspetti organizzativi e funzionali della vita all'interno di un istituto di pena. Gli studenti sono stati accolti dal direttore del carcere di Via Cavour, Mario Giuseppe Silla, dal comandante della polizia penitenziaria Ettore Tomassi e dalla dottoressa Giovanna Testa. Voltiamo pagina, anche Termoli potrebbe avere un cimitero per animali da compagnia. La proposta è in una mozione del Movimento 5 Stelle che verrà discussa in Consiglio Comunale. Ce ne parla Manuela Iorio. La sensibilità nei confronti degli animali da compagnia cresce sempre di più. C'è sempre più attenzione al loro benessere e al riconoscimento dei loro diritti. Compagni in alcuni casi insostituibili anche di persone sole, non solo dal punto di vista fisico ma anche affettivo. Un legame profondo, insomma, quello che si instaura con l'uomo. E allora perché non dare al cane o al gatto che esso sia una degna sepoltura anche quando arriva il momento del distacco? Insomma, avere un cimitero pubblico per animali da compagnia così come già esiste in tante altre città italiane come Ferrara, Cuneo, Asti, Milano. Ora potrebbe averlo anche Termoli perché il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale in programma giovedì, con cui si chiede all'amministrazione guidata da Angelo Sbrocca proprio di realizzare un cimitero degli animali, pubblico e gratuito, dove i cittadini che lo desiderano possano seppellire i propri animali da compagnia. A Termoli sempre più persone ospitano in casa uno o più animali con cui trascorrono una parte considerevole della loro vita, scrivono i 5 Stelle nella mozione. Al momento, quando muore ad esempio un cane, dopo averlo segnalato all'asle di riferimento, bisogna rivolgersi a un servizio privato o un ambulatorio veterinario con un costo considerevole. In città almeno una famiglia su due a questa necessità, fanno notare ancora i grillini, che hanno presentato la mozione anche sulla scorta della legge regionale del 21 aprile 2008, che riguarda proprio i cimiteri per gli animali d'affezione. Se la proposta dovesse passare, Termoli farebbe da apripista in Molise. Parliamo ora di cucina, perché lo chef molisano Stefano Rufo gareggerà nella finale della rubrica la sfida del campanile della trasmissione di Rai 1, la prova del cuoco. Rufo ha raccontato le sue aspettative e la sua esperienza ai nostri microfoni. Ci dice di più in questo servizio Valeria Farina. Ha fatto conoscere i gusti e i sapori del Molise, dai ravioli di scapoli al cinghiale sfumato con la tintilia, fino alla polenta e alla crema di fagioli confetto. Stefano Rufo, chef molisano di Rocchetta al Volturno, dopo aver vinto diverse sfide tra i fornelli nella trasmissione TV condotta da Antonella Clerici, la prova del cuoco su Rai 1, si prepara alla finalissima della rubrica la sfida del campanile. Venerdì inizieranno le finali. Fino adesso siamo stati lì e ci siamo classificati. Adesso dobbiamo finire in bellezza. Tanti riconoscimenti ottenuti da chef Rufo. Dopo il giro di Italia dei sapori a Fano e il riconoscimento sulla rivista La Madia Travel Food, Rufo rappresenta una delle eccellenze della cucina molisana. Spero di vincere, però ci vuole l'aiuto di tutti quanti voi, perché io ho messo la mia faccia e mi sono classificato. Però adesso ci vogliono i voti per vincere, i voti di tutti quanti. Durante la sfida del campanile, Stefano Rufo gareggerà contro l'Emilia Romagna, la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia. Votare sarà facile. Per far vincere il Molise basterà mandare un SMS oppure chiamare dal telefono fisso che i fuochi divampino per diffondere aromi, gusti e sapori di un Molise autentico, ricercato e saporito. E per il cartellone degli spettacoli teatrali al Savoia di Campobasso vi segnaliamo l'appuntamento di domani sera, 11 maggio alle 21, con Pompieri in tacchi a spillo, Commedia in due atti di Eva De Rosa, con la regia di Pinaricca e la direzione artistica di Rita Santoro. Per informazioni e per la prevendita è possibile telefonare a questo numero 333-129-4349. Sabato a Vinchiaturo, L'UMPLI in collaborazione con la Regione Molise ha organizzato una giornata di lavori dal tema Turismo e Natura verso il Parco Nazionale del Matese. Sentiamo Cristina Nero. Molise, Turismo e Natura verso il Parco Nazionale del Matese e questo è il tema che L'UMPLI affronterà sabato alle cupolette di Vinchiaturo alla presenza di autorevoli esperti del settore. Abbiamo inteso promuovere una giornata di lavori interamente dedicata alla montagna del Matese. La riteniamo cruciale per lo sviluppo di questa regione, non solo per l'area matesina ma per l'intera regione. Il Parco Nazionale del Matese può essere un vero volano di sviluppo per il Molise, per l'area, per la cittadinanza del Matese. Può rappresentare per il Molise quello che il Salento ha rappresentato per la Puglia, quello che i Sassi di Matera hanno rappresentato per la Basilicata. Insomma ci crediamo molto. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione durante la quale il presidente dell'UMPLI Angelo Premiani ha ribadito l'importanza che riveste lo sviluppo del Parco del Matese per il Molise e la sua crescita sociale ed economica. Noi vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro, puntare sulla natura e puntare sul turismo legato alla natura. Questo non è fine a se stesso perché può essere, intendiamo promuovere un modello di sviluppo sostenibile, quello legato appunto ad un'economia rurale e ad un'economia legata all'ambiente e al territorio. Dal canto loro le proloco della regione sono all'opera per studiare strategie e programmi che favoriscono lo sviluppo delle aree interne. Stiamo lavorando molto sul territorio, da sempre lavoriamo per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle peculiarità della nostra regione. Siamo impegnati fortemente sui borghi, quest'anno è l'anno nazionale dei borghi, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali e noi siamo parte attiva di questo anno dedicato ai borghi, facendo parte del comitato interministeriale dedicato ai borghi. quindi svolgiamo già un'azione di tutela e valorizzazione dei piccoli centri. In questo contesto intendiamo promuovere anche quest'altra iniziativa legata appunto alla montagna e alla valorizzazione della stessa. E con questo servizio di Cristina Niro termina anche l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Grazie perché scegliete la nostra informazione. Buonanotte.